Wow 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 amici appassionati di gaming e di Airstone, siamo qui, ho pensato a una nuova combo per il nostro Thaddeus, difficile realizzarla in game forse ma con lo Gandiere ci si può provare, vediamo se riesce quello che spero e penso, grazie anche a una imbeccata del nostro amico Live92. Adesso la prima cosa che dobbiamo fare secondo me è piazzare questo, così stiamo tranquilli, vediamo anche questo, ok, questo è uno dei due gemelli, questo per proteggerci speriamo che non ce lo distrugge, ok, facciamo così, vediamo, ok, un po' da rossa non c'è problema, va benissimo così, vediamo se riesce la combo che farà apparire Thaddeus, un Thaddeus, forse due Thaddeus, non lo so, vediamo subito, mettiamo qua questo e posizioniamo anche Balone Fiera Morte e stiamo lì un attimo a pensare sul da farsi, stiamo lì un attimo a pensare sul da farsi, questo ci fa due danni, va bene, ci fa tre danni, va bene, ok, passiamo il turno, Carico è pronto a colpire, va bene, ci ha colpito a noi, meglio così, quello colpisce con lui lì, vai, e adesso è ora della combo, vediamo, vediamo se funziona, vediamo se la combo fa quello che spero, attenzione, abbiamo Balone Fiera Morte, i due gemelli Stalag e Feugen e il Signore della Morte, ora andremo a utilizzare questa carta qua, terrore del vuoto, e vediamo cosa succede, attenzione, 4 Thaddeus ha funzionato, 4 Thaddeus e un terrore del vuoto, 14-11, poi se proprio proprio vi da fastidio, diciamo volete aggiungere peggio al peggio, potete usare anche il mutante, e qui è poi, la festa veramente è completa, la festa detta è completa, beh, diciamo che abbiamo capito che se i due gemelli vengono decisi contemporaneamente o da, in questo caso il terrore del vuoto, una distorsione fatua, o qualsiasi altra cosa, l'effetto è doppio, cioè valgono entrambi i rantoli di morte, quindi evoca due Thaddeus, in questo caso, col Barone Fiera Morte lì, sono 4. Non credo e penso che difficilmente potrà essere utilizzato in game, quanto è difficile avere i due gemelli utilizzabili, quindi poi evoca un solo Thaddeus perché ne ammazzi uno alla volta, oppure non hai il Barone Fiera Morte, comunque, insomma, gli altri giocatori non stanno certo a guardare, però è divertente vedere questi, potete fare sicuramente una squadra di calcetto con i vostri Thaddeus. Un saluto dal Duca, alla prossima, ciao!